Siamo al secondo giro Sì, l'abbiamo fatto Vediamo di migliorarci il po' Sì, riusciamo Sì, riusciamo Siamo Variante Variante Riusciamo 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 Grazie a tutti. Mi sembra che su di qui, subito a sinistra che sono sopra la, quella la deve essere la 1 e la 2. 1, 2, la terza dovrebbe essere di là? Sì. Mi servono i moduli per non caricarti lì. E poi devo tornare a casa e poi tornare a casa. Bravo, bravo, bravo. Buon lavoro, ciao, ciao. Secondo me è dentro di lì la 1 e la 2. E qua andavamo giù a fare la terza. Questa è la 1 e la 2. E poi se chi la strada asfaltata si gira giù a destra e ci dovrebbe essere la 3. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.